Noi abbiamo dalla parte nostra tanti bei risultati e soprattutto oggi una considerazione che ha l'Abruzzo in Italia che è una considerazione notevole, forse non siamo riusciti ancora a comunicarlo, ma insomma la stampa nazionale ormai ne parla come un caso unico. D'altra parte ridurre le tasse quando tutti le aumentano in Italia, in Europa e anche negli Stati Uniti è una questione che chiaramente ci pone all'attenzione nazionale, ma per due le tasse abbiamo dovuto anche ridurre i costi della politica in modo superiore a tutti gli altri tant'è vero che oggi per una legge del governo Monti è l'Abruzzo, è la regione alla quale tutti si devono adeguare tutte le regioni italiane per i costi della politica. Abbiamo cercato di risanare l'Abruzzo non solo da un punto di vista finanziario ma anche da un punto di vista etico e morale. In politica noi fortunatamente non dobbiamo vivere di politica quindi il timore non è un timore di perdere, di vincere, non sono queste le cose è giusto quello che decideranno i cittadini abruzzesi. Io sono diverso, sono un po' anomalo sotto certi punti di vista di quella che è la politica, mi piace essere molto pragmatico, portare risultati. Io individuo il problema cerco di risolverlo e questo è vero. Non sono magari tanto abile su quelle che sono le politiche così di scenario, quelle fumisterie che normalmente la politica accade. Mi sembra di avere delle caratteristiche diverse però questo vale anche con Legnini, vale anche con altri candidati potenziali, Lolli che è un candidato anch'esso potenziale. Ma il centrosinistra è un candidato, lo deve avere, infatti poi saranno i cittadini a scegliere.